signori buongiorno puntata numero 48 della stagione 2 del podcast 3 and drink manca una settimana alla fine della regular season sono raffreddato penso lo sentirete e ogni tanto mi soffrerò il naso sto lacrimando solite cose ragazzi questo podcast porta una sfiga che guardate la metà basterebbe ma proprio ma avanzerebbe proprio comunque settimana ricca di cose da di cui parlare perché insomma ci sono state tante piccole news anche anche extra NBA ma in questo momento stiamo seguendo live un paio di partite anche perché sono le ore 22 18 circa del di domenica 7 aprile Dallas Houston espulsione a Matt Thompson partita molto tesa e Cleveland Clippers insomma i Clippers si ultimamente stanno si stanno riprendendo un pochettino ma la situazione sia est che ovest è molto molto complessa e ne parleremo si è un finale di stagione in volata pazzesco inspirato perché ci sono mille posizioni aperte sia a livello play in sia ultimi posti play off sia a testa di conference perché anche est per boston la situazione delineata ma per le altre no evidentemente però ecco vorrei fare l'annuncio lo volevamo fare alla fine ma lo faccio adesso ultima puntata del podcast chiudiamo da oggi perché non è più sostenibile veramente c'è tra quello che succede a noi e quello che ci succede anche attorno ultimamente è l'ora veramente di farla finita quindi insomma ragazzi sarà un ultimo macedonia e poi ci rivediamo altrove perché ci siamo rotti il cazzo le vostre maledizioni della sfiga che ci portiamo dietro poi guardate siamo uno l'antitesi dell'altro io ho preso il sole oggi vedete sono rosso come un peperone il buon franzo invece ansima di raffreddore quindi questa è anche la dimostrazione potremmo cambia le stagioni cambia questo podcast il problema potremmo fare una cosa una cosa incredibile di basket cioè venire travestiti cioè dire che non siamo noi cioè continuiamo il podcast ma tipo con gli occhiali il baffo il nasone cose così potremmo provarti proviamo questa ultima chance allora non è l'ultima del podcast però può essere la penultima perché se neanche questa va male va a fanculo a tutti quindi può essere anche l'ultima volta che lanciamo la solita sigla signori eccoci tornati dopo la sigla del gran maestro riccardo marchi puntata numero 48 ed è la l'ultima credo l'ultima prima della fine della regular season possiamo già preannunciare tore dobbiamo un attimo organizzarci però domenica prossima dalle sette alle a mezzanotte in sostanza giocheranno tutte le squadre quindi potremmo azzardare una live su tree and drink contemporaneamente twitch quindi youtube e twitch in cui andiamo a vederci l'ultimo turno in regular season così vediamo poi i seed finali vediamo quali saranno gli accoppiamenti play in play out si play out play in e play off e così dopo si può registrare la puntata fresca fresca post ultime partite quindi è di fatto questa l'ultimo episodio prima della fine della regular season che roba è bellissimo pensate abbiamo fatto il programma di una tranquilla e serena domenica di lavoro perché molti per fare quello che faremo noi prendono dei soldi al contratto e noi invece non li prendiamo però per la semplice passione quello che appena detto franzo è quello che desideriamo fare che quindi se non succedono cose incredibili forze oscure e lo faremo e lo faremo da travestiti ricordiamo faremo da travestiti perché bisogna mascherare la nostra non dovremmo sembrare noi esatto è ora di farla finita con questa storia dell'identità perché poi insomma c'è chi chi se ne approfitta chi le ruba porca vacca veramente abbiamo identità colgo l'occasione per avvisare che c'è qualcuno su telegram che si millanta per me truffando persone a quanto pare per cui ragazzi io sono qua non cioè non sono io io non scrivo a nessuno su telegram a meno che non siete voi a scrivermi e quindi non vi fidate soprattutto io non chiedo soldi mai 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 quindi non sono io se vi chiedo soldi o punto esclamato questo certifica la tua crescita a livello di popolarità perché i fake con le truffe ce li hanno i gazzoli tranquillo i pezzi grossi però voglio dire gazzoli non ti va a chiedere cioè il fake di gazzoli che ti chiede soldi voglio dire puzza un pochettino però dovrebbe puzzare anche il mio cioè non li ho mai chiesti in vita mia ragazzi non date soldi a gente che ve li chiede per carità di dio siate voi ad avere in mano la vostra il vostro portafogli e la vostra non lo so neanche come dire comunque ragazzi non fidatevi non fidatevi ok questo incipit spettacolare nei primi tre minuti di questa puntata per parlare di un po' di temi allora partirei da cose extra NBA ok per poi entrare nella lotta ai sì per i sì playoff perché siamo realmente nel casino più totale ancora sia a est che a ovest perché anche a est la classifica si è accorciata in un modo incredibile a parte boston che fa gara a sé e atlanta e chicago che sono già non è decima però volevo partire da un paio di temi extra NBA attualità ovvero a il ritiro di region rondo si ritira ufficialmente region rondo che tu hai avuto modo di supportare nella bolla di orlando con i tuoi lakers dopo averlo offeso per chissà quanto tempo tra l'altro penso sia l'unico nella storia di aver vinto un anello sia con boston che con i lakers da che io sappi e ricordi perché comunque negli anni 80 i giocatori non c'è nessuno che sia passato da una parte all'altra che ricordi io quindi region rondo certificato da lebron come uno dei giocatori dall'iq cestistico più avanzato della storia quantomeno recente della palacanestro possiamo dire che il prime di region rondo è stato uno dei migliori prime per quanto riguarda i playmaker in generale della storia NBA cioè ha avuto quelle due stagioni in cui era veramente dominante post anello boston ma sì si ne può parlare anche se comunque io ricordo ai tempi c'era una grande scuola di pensiero che comunque sosteneva quanto rondo a livello di decision making fosse discutibile poi c'era chi diceva che era troppo avanti e che quindi talvolta i suoi passaggi non venivano compresi altri dicevano e spesso buttare la palla però insomma sì negli anni post anello la squadra era la sua ed era oggettivamente devastante io non sono mai stato un fan di region rondo onestamente e come hai detto bene te è stato un grande rospo che ho dovuto ingoiare nel tempo di bolla perché ero tra quelli che sostenevano che rondo e lakers era più un danno che un valore invece poi la storia ci ha detto altro e quindi io lo ricordo con gioia insomma come uno di quelli che hanno fatto l'impresa perché per me quello per mille ragioni che anche ci riguardano tra l'altro è uno dei titoli più belli che ho festeggiato dei lakers e poi in generale c'è furono dei playoff bizzarri e quindi mi ricordetti al 300 per cento più con la vittoria bellissima quindi io ricorderò sempre rondo a fine del tutto con questa famosa foto con il suo bambino che gli prende la birra e la beve lui cioè la cosa più più diseducativa di sempre però è vero che comunque rondo anche recentemente ha dimostrato di non essere esattamente il miglior padre di famiglia però i tumori su un cazzi suo in buona sostanza fa specie che si sia ritirato adesso probabilmente ha aspettato la leccata di culo di lebron nella prima puntata di mind game perché di fatto non giocava da due anni non so da quant'è che era sparito però insomma onore sul campo a region rondo esternamente non sta a noi giudicare o perlomeno non ne sappiamo abbastanza almeno io delle presunte porcherie che ha fatto comunque gran giocatore poi se lebron dice uno dei giocatori con più ai più cestistico di di sempre crediamo qualcosa ma tornando alle bron direi di passare al tema bronni perché in un paio di giorni prima ha richiesto il trasferimento da usc verso altre università e due giorni dopo si è dichiarato eleggibile per il draft del 2024 cioè quello che è alle porte le previsioni di bronni sono andrafted ok quindi se non fosse il figlio di lebron sarebbe certamente andrafted anzi dirò di più se non fosse il figlio di lebron non si sarebbe neanche dichiarato per il draft io ho cercato un po di diciamo unire i puntini di questa roba qua perché in realtà non è ancora ufficiale a tempo fino a maggio per scegliere se effettivamente prender parte al draft o farsi un altro anno di college tra l'altro c'è una regola dell'nca per cui se cambi il college non puoi giocare nell'anno in cui cambi quindi potrebbe anche essere ci dovrebbe essere una cosa del genere ora non l'ho letta da nessuna parte ma l'avevo sentita questa è da accertarsi magari lo faremo da qui alla fine della puntata il tema però è nel momento in cui lebron in spogliatoio ti dice non mi è rimasto molto tempo ancora e qualche giorno dopo suo figlio si dichiara per il draft fa un po riflettere cioè nel senso se la squadra se qualche squadra dovesse sceglierlo e metterlo sotto contratto io credo che lebron rimarrà ai lakers l'anno prossimo con l'opzione che ha quello dopo potrebbe essere a questo punto l'ultimo anno di lebron con un contratto più ridimensionato nella squadra del figlio se però il figlio dovesse finire andrafted come pare possa possa essere a quel punto sono abbastanza convinto che i lakers lo firmeranno in qualche modo è fuori dubbio magari fuori dubbio così sì ma così come che ne so tanasi sa detto comunque è stato caldamente consigliato dal fratello a milwaukee no è chiaro che secondo me lebron è capacissimo di poter alzare il telefono e chiedere a un gm di qualsiasi altra squadra nba di prendere broni e quindi di sceglierlo così come se davvero la sua mira è quella di giocare con broni è capacissimo di poter caldamente consigliare a tutti di non sceglierlo perché oggettivamente in questo momento non meriterebbe una scelta e di fare in modo che poi rientri di rinterzo come andrafted con i lakers ora e il tema è l'allenatore di università in california dovrebbe essere cambiato nel senso che l'allenatore che ha quest'anno allenato broni dovrebbe essere andato via e questa sembra essere una delle ragioni del per cui broni ha chiesto il trasferimento in realtà i critici dicono che ha chiesto il trasferimento perché stava giocando poco e comunque non stava giocando bene anche se qualche qualità almeno a ascoltare i più informati onestamente non ho visto niente rispetto ai suoi valori difensivi e alla tendenza di poter diventare un 3nd di domani dovrebbe averla fatta vedere chiaro che ha bisogno di almeno un altro anno al college forse altri due e potrebbe essere un prototipo alla max christi anche se max christi comunque dai rakers è stato scelto più al primo giro anche se basso primo giro se non vado erato quindi insomma broni non non ha queste mire almeno che ripetono le broni non non lo consiglia un qualche d'uno e poi magari perché c'è anche queste ipotesi sul tavolo lo mette in nba può farlo e lui poi tutto sommato questo grande desiderio di giocarci insieme non lo manifesta non lo non lo non si manifesta e non succede mai a sapere né io sono carriera di james visto che sono uscite anche delle indiscrezioni mi pare di shams per cui è prevedibile che giochi altri due stagioni come dicevi anche te io sono convinto finirà a los angeles e sono convinto che voglia fare il farewell tour cioè lui nell'idea nella sua testa quella di dichiarare prima che quella sarà la sua ultima stagione ricevere l'ovazione eccetera 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 è una roba che non si vuole far mancare anche se poi lui nelle dichiarazioni dice no ma me non me ne frega niente non sono quelle celebrazioni sto cazzo ci mancherebbe l'altro quindi l'anno prossimo prenderà l'opzione e l'anno dopo sarà il farewell tour secondo me se in mezzo a questo broni riesce ad infilar dentro meglio se no secondo me poi tutto sommato gliene frega anche il giusto in realtà così come secondo me gliene frega anche il giusto di vincere l'ultimo titolo è chiaro che ci prova finché puoi legersi in questo momento sono una delle squadre più in forma dell'nba però oggettivamente proveranno a rivoluzionarsi se lui dovesse firmare in estate restare con l'opzione ma è difficile secondo me immaginarli trasformati come squadra contender conclamata al netto di chi possono prendere perché comunque le strutture ma questo è un altro discorso sono strutture difficili se hai lebrone anthony davis di poter ammodernare il tuo gioco rispetto a quello che è quello che serve oggi detto ciò io a sensazione mia mi sembra che broni si sia dichiarato regibile al draft contemporaneamente dovrà passare delle visite perché con il problema che ha avuto non è detto che poi possa essere effettivamente le sue leggibili devono controllare che stia fisicamente bene almeno questo leggevo e poi al fin della fiera credo che resterà al college non so ovviamente non è stata in california dove il suo allenatore non c'è più però io credo che farà un altro anno al college e tornerebbe anche bene con lebron poi dopo l'anno dopo effettivamente dopo l'opzione sarebbe free agent poi se fa il farewell tour a los angeles magari fa in modo di rinterzo di averlo lì e altrimenti va davvero dove lo prendono ma ma mi sembra bizzarra come cosa cioè sarebbe anche abbastanza brutta non so come avete idea il fatto che lebron piloti la scelta del figlio non so a washington per andare poi immediatamente dopo washington cioè una roba secondo me anche a livello proprio di fama di legacy più squalificante del jordan che ritorna ai wizards perché era mezzo proprietario della squadra e perché voleva vedere di rendergli un po di appeal ma tutto sommato non aveva più un cazzo di nulla da dire al netto delle prestazioni non so come avete idea ma hai detto washington come nome a caso o perché secondo me potrebbe anche essere vado a washington per dire io vado a washington a 42 anni e magari vinco a washington non vincerebbe che roba con kuzma bello no 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 l'impressione è quella però ci metto dentro anche bryce perché bryce dovrebbe entrare nel 2026 secondo le le stime no quindi boh potrebbe anche giocare tre anni chi lo sa chi lo sa però voglio dire per come sta giocando adesso fai fatica a non dire che questo possa giocare altri tre anni almeno perché è impressionante da quel punto di vista lì sono d'accordo con te dovesse tirare la lunga tre anni o quattro anni per fare i family affair con i figli sarebbe un po una buffonata secondo me dovesse giocare altri tre o quattro anni per mantenere questo livello o comunque naturalmente scendere ma puntare al titolo è un altro discorso però insomma va visto perché poi in base a quello che succede cambiano i giudizi cioè chiaro che sia un suo feticcio quello di giocare con uno o entrambi i figli però bisogna anche vedere come questa roba effettivamente avviene perché si avviene in maniera forzata e allunga un brodo che già nel senso è raffreddato rischia di diventare un po una buffonata nella legacy di una carriera assurda però boh vediamo è prima prima di dare giudizi ci mancherebbe certamente e l'ultimo tema prima di iniziare a parlare di nba e di quello che sta accadendo insomma in questi ultimi quest'ultima settimana di regular season sono gli all of famer dichiarati chunzi billops vince carter doveroso michael cooper ex lakers e insomma figura figura dei dei mitici lakers vince carter doveroso insomma sempre sostenuto ci mancherebbe anche chunzi billops chiaramente ci sta insomma poi mi rendo conto che billops non sia mai stato quel tipo di giocatore che attragga le folle ok mediaticamente insomma importante però insomma sono due nomi che ovviamente ci stanno null'altro da dire c'è poi jerry west che entra anche come dirigente quindi jerry west è in all of fame praticamente in tutti i ruoli della pallacanestro nba due paroline beh vince carter è il motivo per cui io sono qui e quindi insomma lo ringrazierò infinitamente perché mi ha attirato nel mondo nba con le sue giocate incredibili billops probabilmente tu da tifoso lakers lo ricordi un po meno volentieri mister big shot in quei detroit pistons su michael cooper non mi esprimo ma sai michael cooper era uno specialista difensivo abile nel contropiede uno dei migliori amici anche a livello di spogliatoio e vita in realtà di magic johnson quando quando era laker se non vado errato coop arrivò l'anno prima o forse arrivarono insieme non ricordo esattamente è bizzarro perché michael cooper da quel che ho letto rapidamente prima proprio di iniziare a registrare non dovrebbe aver mai neanche giocato uno star game che è pazzesco però magari la famigliata ring culture cose simili il fatto di essere stato comunque ingranaggio fondamentale di quei lakers league che ha vinto così tanto giocando così tante finals quel modo rivoluzionario probabilmente gli da anche come dire un'aura un attimino più più importante di quello che effettivamente era non lo so io lo ricordo per non averlo mai visto ma per aver visto poi postumamente partite aver letto visto documentari comunque un giocatore fondamentale dei lakers dello showtime quindi tutto sommato ci sta tra l'altro avuto anche un'esperienza se non variato da coach sia come secondo quando magic johnson fece il coach e nella wmba credo forse con le los angeles parks mi parebbe allenato ma non voglio e probabilmente anche vinto però questo poi non credo poi rientri nella nomina nella del esatto differente per west e però ha fatto anche l'allenatore seppur per poco e seppure a tratti alterni per quello in all of fame non c'è però va bene per tutto il resto ci mancherebbe a carter che ti devo dire cioè ci mancherebbe carter è giocatore devastante ha rivoluzionato sostanzialmente l'ambia ha messo toronto sulla mappa anzi ha ridato l'infa l'ambia con il suo gioco quindi perché come discute poi ha giocato un botto ha fatto 22 22 22 e su billups io il miglior il billups che ricordo di più in realtà è il billups che entrò in nba scelta alta dei celtics per fare lui e ron mercer 35 grandi promesse billups a metà stagione fu buttato fuori sa urlato e rado ed ha peregrinato male nelle prime due tre anni di carriera fino credo o denver o forse detroit proprio denver un po un po ri esplosso però sembrava come dire una un bust dopo 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 poco che era stato scelto e lo stesso accade anche a rom mercer che arrivava in nba con con grandi nome da college basket però i celtics per per sé quelle due sceltri le buttarono nel cesso perché billups e mercer erano grandi speranze ma non andarono bene dopodiché allora su billups si potrebbe stare a parlare due ore su quanto faccia cagare in panchina perché secondo me lo schifo di portland è principalmente responsabilità sua perché il primo anno attenuante il secondo anno insomma quest'anno a me sembra che non alleni mai sta sempre lì con le braccia concerti a vedere le coglionate che gli combina e it on che inizia a giocare quando il basket è finito cioè le ultime venti partite fa 25 10 di media bizzarro ma ma è it on e scoot anderson è forse un altro problema di billups in questo momento per motivi per cui io fossi a portland penserei a billups in chiave di saluti e grazie insomma come giocatore non lo si discute per niente poi ha vinto quindi bene non ho niente da dire su questi ottimo bene così e con questo abbiamo esaurito un po i temi extra attualità stretta attualità nba i primi quasi 20 minuti se ne sono andati ce l'abbiamo fatta anche questa volta allora iniziamo a parlare dell'nba perché sono usciti dalla corsa play in play off gli houston rockets che stanno giocando in questo momento e stanno vincendo contro i Dallas Mavs la partita insomma sono siamo ancora durante il primo tempo houston rockets che avevano raggiunto le 11 vittorie consecutive si sono presentati allo scontro diretto con i golden state warriors hanno preso un'imbarcata clamorosa un'imbarcata clamorosa come a dire sì tutto bello però non siete ancora pronti che è effettivamente corretto dal momento che insomma hanno già bari smith che è un secondo anno hanno a man thompson cam whitmore che sono primi anni hanno già l'angreen che è un terzo anno e per quanto bene stesse facendo comunque è una squadra che manca di esperienza dillon brooks che dovrebbe essere quello esperto insieme a van blit si fa espellere si fa buttar fuori è sempre lì a far mezza rissa ogni partita anche se qui difende benissimo con donchic scusate sto vedendo la partita donchic segna comunque però però come avevamo detto imeudoka ha dato la sua impronta cioè questa è una squadra che difende quanto meno difende e a questo punto per il futuro dovrebbero essere tutte rose e fiori se non fosse che houston esplosa nel momento in cui si è fatto male sangun e qui bisogna in qualche modo capire perché se già l'angreen esplode quando sangun non c'è se con sangun il record degli houston rockets era molto negativo noi giustamente l'odiamo e incensiamo la stagione di alperen sangun perché indubbiamente ha messo cifre importanti però evidentemente non lo so o è lui nel contesto sbagliato o sono gli altri che non sono adatti a giocare con lui come la buona è un problema forse si può provare a recuperare green e sangun e a trovare una sintesi no la verità è che comunque restiamo su green noi avevamo detto due puntate fa le ultime le prossime gare di green saranno decisive per capirsi è maturato o meno onestamente alla fine della lunga striscia di vittoria e la sconfitta proprio con i maps stavo vedendo green ha chiuso con 12 punti ha tirato 33 per cento dal campo 0 su 5 da 3 e nella gara decisiva dopo aver perso anche contro minnesota contro i warriors 4 su 12 dal campo 3 su 8 da 3 13 punti insomma diciamo che ha retto la squadra per una lunga striscia di vittoria in maniera incredibile quando poi c'era da stringere e le gare erano importanti si è un po' sciolto non sta andando così stasera nella gara che stiamo vedendo almeno fino ad ora contro dalla sta facendo un partitone però insomma sembra averceluto alla distanza e quindi si ritorna lì jalen green è maturo per essere talmente fondamentale che nel caso lui e sengun non si non si trovino oggettivamente sacrifichi il turco boh io comunque vista la solidità della stagione di sengun nonostante tutto e malgrado questi risultati in fondo io resterei comunque con lui perché il talento di sengun e le peculiarità di sengun per la palacanestro di oggi secondo me sono sono ancora più rare di quelle che sono le caratteristiche atletico tecniche di green che però nell'arco delle sue prime tre stagioni mb è andato molto a livello di rendimento montagne russe per quanto in questa ultima difensivamente sia migliorato e nelle ultime strisce prima delle ultime quattro gare prima di quella di stasera avesse anche trovato percentuali alte dall'arco e grande efficienza comunque sono dei bei problemi è per i rockets cioè questo è un anno zero però ecco può andare può essere questo finale di stagione lo possiamo vedere un po come si usa sempre ormai come esempio il finale dei sans nella bolla prima di arrivare poi alle finals l'anno dopo nel senso stiamo vedendo una squadra abbiamo visto una squadra che comunque ha vinto un tot di gare consecutive in maniera convincente e che quindi si è dimostrata amalgamata ben messa in campo malgrado l'assenza del centro però insomma è una squadra che ha che ha prospettiva io fossi nei tifosi i rockets anche se i playoff ormai non li faccio sarei positivo e comunque per come stanno giocando a Dallas adesso sembra che loro ancora ci credano io non so se la matematica li ha effettivamente condannati credo siamo lì se non è successo però insomma sta onorando la partita si vede ce l'hanno con Dallas perché una delle la prima sconfitta delle ultime tre consecutive l'hanno presa con i Mevs vabbè ma sai la mentalità credo si costruisca anche quando anche in queste partite qua quando non hai più niente da chiedere perché anche i sans all'epoca non è che avessero tanto da chiedere nella bolla hanno costruito lì secondo me la mentalità che poi li ha portati alle finals l'anno successivo la sconfitta di Houston con Golden State e poi i risultati successivi perché Houston poi ha perso anche contro i Miami Heat di fatto ha aperto la strada dei play-in a Golden State e come avevamo ipotizzato nell'ultima puntata stanno calando molto Sacramento e New Orleans Pelicans i Lakers hanno agganciato l'ottavo posto e sono la squadra più in forma in questo momento nella Western Conference per cui si sta profilando probabilmente la miglior versione dei play-off NBA che ci si potesse aspettare cioè credo che Adam Silver sia pronto a sciabolare quello buono perché se i Lakers dovessero arrivare settimi e Golden State dovesse arrivare ottava avremo veramente tutti i migliori dalla 1 alla 8 ad ovest nei play-off e Adamo mamma mia sboccia quella quella buona sì e poi con incroci anche interessantissimi fin da subito ora per i Lakers c'è un best scenario ai limiti dell'impossibile secondo me possono ancora arrivare sesti ora noi stiamo registrando e ancora non abbiamo visto la vittoria l'eventuale vittoria o sconfitta ecco che l'ho tirata di brutto nella gara che è prevista stanotte contro i Timberwolves in back to back vincessero però quella partita lì voi lo sapete già gli scenari cambiano ancora in positivo perché questa è una squadra super in fiducia l'abbiamo visto anche come ha vinto ieri sera per noi contro i Cleveland Cavaliers e ha raggiunto una forma offensiva leggevo i dati a partire dal 7 di gennaio devastante sono la seconda squadra che tira meglio da tre capito allucinante e c'è un giocatore il giocatore della metamorfosi di Angelo Russell è pazzesca sta roba ma da quando si è recuperato lui e ha coinvolto di fatto la squadra questo gruppo ha iniziato a tirar bene da tre ha iniziato a giocare in maniera corale e funziona strabene offensivamente funziona molto meglio offensivamente che difensivamente però nella gara contro Cleveland di ieri sera per noi anche a livello difensivo hanno dimostrato che se fanno click se vogliono far click in difesa ancora hanno e possono portare dei valori quindi occhio ai Lakers anche perché il recupero di Vincent che per adesso gioca una gara sì e una no può essere importante perché anche ieri sera con i Cavaliers se l'abbiamo visto passa sui blocchi è molto aggressivo sulla palla è quello che manca e cioè è la sintesi perfetta da mettere in mezzo tra Reeves e Dilo in certe fasi eventuali di partita attesa no quindi la struttura di squadra potrebbe essere che stia per tornare Vanderbilt adesso lo aspettiamo lui come Godot manca solo lui però la squadra è quella che doveva essere arriva al massimo del suo rendimento stagionale nel momento più importante certo c'è questa lunga rincorsa che stanno facendo al momento che stiamo registrando nelle ultime dieci ne dovrebbero aver vinte nove e ne resta quattro con quella di stanotte per noi contro i Timberwolves sono quattro tutte difficiline se chiudessero comunque vincendoli tutte viste la quantità di scontri diretti che riguardano le altre dai Suns ai Kings ai Pelicans eccetera e l'incertezza che c'è sia in coda che in alto perché comunque anche il primo seed è ampiamente da combattere tra Denver o Cloma City e Minnesota insomma un best scenario per i Lakers potrebbe dire evitare Denver al primo turno e magari entrare o contro Cloma City o addirittura entrare da sesta che entrare da sesta sarebbe però secondo me entrare da sesta ti becchio KC perché secondo me KC è iniziato a fare qualche calcolino anche lei KC ha tre sconfitte di fila questa notte non gioca nemmeno J-Dub Shay non sta giocando e per cui insomma secondo me anche KC dice meglio terzi perché se arriviamo secondi e ci becchiamo i Lakers che magari prendono il settimo seed ora se i Lakers dovessero arrivare sesti ok sì in chiappetta Adas però insomma questa notte per voi la notte scorsa ci sarà un'altra partita molto importante che è Pelicans-Fenix Suns e i Phoenix Suns che avevano tutti i scontri diretti sulla carta avevano il calendario più difficile e stanno vincendo tutte il che ci fa capire che anche Phoenix cioè è sesta in questo momento ma porca miseria se ha un roster con cui può contendere cioè porco Giuda Dallas in questo momento è sotto con Houston ma in rimonta i Clippers sono sotto di più di 20 contro Cleveland in questo momento i Clippers hanno avuto una serie di partite un po' sculate quella vinta col fallo su Ubre you shit you shit you shit di Kelly Ubre hanno vinto in volata con Denver hanno vinto un'altra partita in volata non ricordo contro chi in questo momento stanno prendendo le sberle dai Cavs il ginocchio di Kawai boh nessuno sa e questo è il problema nessuno sa come al solito si fa male Kawai nessuno sa e i Clippers in questo momento li vedo in grossa difficoltà ma non da questo momento cioè sono già un paio di mesi e lo abbiamo detto nelle puntate precedenti che i Clippers ci appaiono decisamente diversi da quelli che potevano sembrare nella prima parte dell'anno fine 2023 inizio 2024 quindi da qui al domenica prossima ci sono tutta una serie di partite, scontri diretti, match up che sono assolutamente da seguire e che possono ancora una volta rivoluzionare tutta la classifica io ai Clippers non mi sento di escluderli da questa bagarre anche se in questo momento sono un po' più avanti perché comunque ragazzi stanno prendendo le sberle da Cleveland in questo momento poi magari rimontano Cleveland senza Mitchell senza Mitchell in back to back che ieri sera erano appunto contro i Lakers sì ma guarda anche la quarta ora i Clippers sembrano un po' blindati ma tutto sommato avrebbero due gare di vantaggio su Dallas ora peccato che Dallas in questo preciso istante e l'half time stia perdendo però comunque lo slancio di Phoenix anche se sembra difficile potrebbe portarli ancora a sperare in una quarta posizione non è preclusa per i Saints quindi sì è una bagarre molto molto interessante di difficile difficile previsione tra l'altro interessante anche Minnesota che tra l'altro ha perso contro Phoenix e il fatto che Phoenix sia un po' la bestia nera dei Timberwolves non dovrebbe farli dormire sonni tranquilli perché poi c'è pure il rischio che si incroci arrivando sesti evidentemente i Suns e i Timberwolves nelle due gare stagionali contro Phoenix e le ultime due sono andati malissimo hanno perso due partite la gara ultima che hanno giocato contro è stata una gara dove oggettivamente Minnesota la difesa sua l'ha fatta ma in attacco non ha trovato la via del canestro ha dimostrato un sacco di difficoltà che forse sono conseguenza nel medio-lungo dell'assenza di un Towns che io non ho notizie rispetto al suo rientro ma probabilmente ecco non sapevo se ero io a non saperle o no però in ottica playoff è problematico insomma sono tutti, l'abbiamo già detto dipenderà tanto dai match-up per capire quelle che sono le prospettive di corsa e differenti squadre e i match-up sono incerti probabilmente fino all'ultimissima giornata o poco prima quindi meglio di così si muore gli stessi Clippers hanno vinto in volata contro Denver ma stravincevano a non so durante il terzo quarto se non vado erato perché è stata una notte in cui io non ho dormito e non ho visto la partita ma guardavo continuamente i risultati e caspita cioè alla fine Denver la Persa o meglio i Clippers l'hanno vinta perché hanno buttato un redivivo PJ Tucker a fare la difesa della vita su Jokic che ha smattonato la tripla finale allora è chiaro era difficile segnarla poi da Jokic ci si aspetta di tutto però insomma stai veramente pescando il coniglio dal cilindro se devi mandare PJ Tucker che fino a oggi l'ha impiegato sostanzialmente zero a fare la difesa del miracolo sul giocatore più forte del mondo questo per me denota diversi problemi per Tyron Lu e per i Clippers oltre al principale cioè c'è già questa cortina di fumo attorno allo stato di Kawhi che è già visto ma non l'anno scorso due anni fa cioè veramente la roba incredibile che ricapiti ogni volta ogni volta ti immagini se questo non gioca i playoff cioè è assurdo e si continua adesso inizia ora a dire ma lui dice io non sono preoccupato no non c'è niente di strano però non si sa un cazzo si sa mai niente queste tre partite non gioca dice in forze adesso ho letto in forze per la gara di martedì contro Phoenix poi si arriverà a martedì e dice boh chi lo sa questo è una bolla e vai e vai è incredibile occhio incredibile è incredibile quello è incredibile come anche i Pelicans cioè è una stagione sono stati sani quinti moh se fa male Ingram e adesso se fa male Zion incredibile questi sono circondati da un velo di sfiga che questo podcast proprio sposta te proprio vero vero cioè dovremmo come dire simpatizzare e familiarizzare con queste squadre qua che sono più sfigate di noi diciamola così poi pazzesco chiaramente poi la loro sfiga è su ambiti diversi però Pelicans uguale investiamo i miliardi su qualcosa sì però neanche abbiamo la prospettiva di guadagnarli per cui in senso comunque vada incredibile comunque sì in questo momento Pelicans e Kings sono francamente le due squadre più in difficoltà in quella zona lì ad ovest Lakers sono i più in forma ci metto Dallas che è in rimonta contro Houston in questo momento e che comunque dovesse beccare il match up con i Clippers si abbia tanta roba per loro perché secondo me proprio a parte Donchic versus Clippers diventa il GOAT ma hanno veramente i match up perfetti Dallas per giocare contro i Clippers lì in vetta pare essere una gara 2 tra Denver e Minnesota perché si ha tirato un po' il freno io dico Denver perché Minnesota mi sembra che sia un po' più in difficoltà Denver alla fine è rientrato e rientra Jamal Murray adesso Jokic gioca sempre Jokic è incredibile e poi per il resto se dovessimo andare a guardare le squadre che stanno arrivando più lanciate verso la postseason a ovest sicuramente i Lakers ti direi Lakers e Dallas ora come ora le due squadre che stanno arrivando un po' più lanciate comunque attenzione a Golden State che vabbè sono sempre quelli sono stronzi quando c'è da vincere vincono tra l'altro su Golden State la chiave di questa grande ripresa del momento sembra essere l'accoppiamento tra Draymond Green e Jackson Davis vista l'assenza di Kuminga che da un punto di vista difensivo funziona funziona tanto a questo punto bisogna capire e leggevo anche delle dichiarazioni di Kerr al riguardo se al momento in cui Kuminga ritorna disponibile vuol e può rischiarli tutti e tre in campo insieme da un punto di vista di Sites potrebbe anche starci però da un punto di vista di Spacing un po' di meno perché sono tre giocatori che battezzi perché nessuno dei tre è pericoloso dall'arco quindi siamo sempre lì per Steve Kerr comunque lui c'è la coperta corta da una parte trova una soluzione ma dall'altra porco di un Giuda e non gli torna il gioco che vuol fare è il destino della sua stagione sì dovrebbero provare a capire se con Green Kuminga Wiggins si riesca a tirar fuori un qualcosa perché comunque Chris Paul non sta giocando gli ultimi minuti delle partite ormai è assodato non possono avere in campo Paul Steph Clay tutti contemporaneamente quando conta a meno che non debbano inseguire non debbano rimontare allora sì però sulle partite diciamo da giocarsi Chris Paul è il leader della second unit e stop anche perché Clay è tornato nel quintetto nel quintetto base sulla Western Conference abbiamo detto praticamente tutto diciamo è bello che diciamo praticamente tutto e noi di fatto non abbiamo detto niente perché è tutto totalmente aperto noi abbiamo fatto le previsioni su cose che al momento in questo podcast esce sono già andate fondamentalmente a puttane perché nelle prossime ore sostanzialmente giocano tutte fra di sé e potrebbe rivoluzionarsi tutto tipo i Lakers prendono 40 si fa male Lebron si fa male Anthony Davis è finita e viceversa non so chi altro cioè capito quindi si può dire tutto e non si dice nulla per cui non ci resta altro che godersi questa ultima settimana perché poi il dato è quello esatto e andrei ad est perché noi avevamo detto l'est è un po' più equilibrato è un po' più definito e mo col cazzo mo veramente col cazzo perché diciamo che fino a Philadelphia che attualmente è ottava ok Philadelphia attualmente è ottava però rientrato in bid tre partite e tre vittorie contro Miami contro Cloma City e l'ultima non ricordo però la differenza che ti fa in bid è quella tra una squadra da play-in forse da lottery e una squadra che può contendere in questo est cioè ho scritto un post oggi su instagram secondo me intanto potremmo vedere in bid più o meno sano nei play-off per la prima volta anche se ovviamente appena rientrato però l'abbiamo visto bene nelle prime tre partite dopo l'infortunio cioè il solito in bid una macchina da canestre impressionante e sogno un primo turno Bucks 76ers perché ora come ora Milwaukee è sotto terra stanotte gioca con i Knicks vincerà di 40 come abbiamo detto prima ma Milwaukee ha perso tre partite di fila contro Washington Toronto e Memphis e Milwaukee non riesce a trovare a uscire da sto tunnel con Doc Rivers hanno un record negativo cioè stanno rimpiangendo Adrian Griffin sarebbe possiamo chiedere poi sarebbe un fallimento uscire al primo turno porco dio senti io ti dico te dicevi sembrava est fosse tutto determinato e invece è bastato far tornare in panchina il caro vecchio Glenn Grant Rivers e tutto cambia perché qui come dicevamo prima microfoni spenti fra di noi se Orlando vince contro Charlotte due notti fa Orlando è in prospettiva per arrivare seconda in questa conference qua e comunque ancora adesso i Magic giocheranno stanotte tutto sommato possono puntare quantomeno al terzo posto perché io mi auguro che i Bucks dopo aver perso tre gare consecutive contro tre e mezze squadre con tutto il amore del mondo perché hanno perso contro Washington contro i poveri Memphis contro Toronto che aveva perso quindici partite consecutive cioè io ragazzi penso che è peggio di così non si possa fare onestamente quindi boh tutto è possibile e davvero dovessimo vedere Orlando arrivare a seconda non è possibile però devono giocare due volte nelle ultime tre con i Bucks quindi occhio perché per i Bucks i ragazzi probabilmente sta esplodendo qualcosa dentro devastante perché cioè è vero da quando c'è Doc il terzetto Middleton Giannis Lillard ha giocato insieme tipo sei gare perché anche nelle ultime tre nella prima contro Washington mancava Lillard nella seconda mancava Lillard e Middleton nella terza mancava Giannis e insomma i tre non giocano mai tutti e tre insieme i risultati comunque non cambiano cioè si perde questo è un grosso problema ma oltretutto c'è una regressione assurda perché quando era arrivato Rivers mi aveva sbandierato sì ma io sto agendo in difesa abbiamo risolto il problema della transizione difensiva prima c'era disattenzione sì l'hai risolto era oggettivo però poi vai a vedere la partita contro Washington hai risolto un gran cazzo di niente perché contro Washington è una squadra che oggettivamente diciamolo fa ridere poi hanno rischiato di battere anche i Lakers in back to back ci mancherebbe altro però una squadra che non ha niente da chiedere in transizione Washington ha fatto un sacco di punti e Milwaukee non rientrava ma diventava una transizione anche dopo un libero segnato dai Bucks perché quelli si buttavano direttamente là e non c'era nessuno ma la cosa la cosa bella è sentire le dichiarazioni di Doc Rivers che si lamenta del fatto che ci sia un clima che non va bene ma porco due incredibile il consulente il consulente ragazzi io le leggo le dichiarazioni del consulente lui secondo me non gliene frega un cazzo cioè non è completamente fuori capito a me sembra che lui sia c'è la sensazione che sia completamente fuori dallo spogliatoio dall'ambiente dal clima da quello che è l'obiettivo lui è lì l'hanno chiamato dice ok cerco di risolvere due tre cosette però tutto sommato boh parlava non mi ricordo se era lui o Giannis dopo l'ultima sconfitta a Redo contro Memphis che parlava si era lui dell'ambiente diceva ma non è un problema soltanto di ambiente squadra anche staff e persone che lavorano attorno allo staff c'è una rilassatezza c'è un qualcosa di cui dovremo parlare a porte chiuse che cazzo vuol dire cioè scusa che fanno i trenini tutti insieme con gli assistenti allenatori con i magazzinieri scherzano si fanno i frizzini con gli asciugamani cioè è assurda sta storia che significa cosa sta succedendo là dietro non lo so però ragazzi il Berwoki rischia il tonfo della madonna mamma mia però occhio perché qui c'è una squadra che è incensatissima va benissimo 60 vittorie sono i Boston Celtics allora i Boston Celtics in uno scenario sfigatissimo potrebbero avere i Philadelphia 76ers al primo turno e poi trovare i Bucks prima delle Conference Finals perché potrebbero trovarli al secondo turno se scendessero terzi e rischiano di prenderlo nel culo però è difficile però rischia di prenderlo nel culo Boston cioè potrebbe trovarsi poi alla fine dopo aver fatto una stagione come dire di tacco a fare una run completamente più difficile anche proprio perché ti devi andare a affrontare in bid magari c'è questo spauracchio a Miluovoki prima delle Conference Finals per cui poi la squadra i Bucks in questo momento che fa ridere però poi in serie playoff Giannis e Lillard li gestisci sempre male lo stesso male per Gioelone Gioelone è rientrato bene da quello che ha dichiarato dal rientro cioè il fatto che lui è andato in depressione a questo giro non so se hai seguito sta roba lui ha parlato di una depressione che ha subito proprio addosso dopo questo infortunio e per la quale non si era ancora ripreso ma ha scelto di tornare in campo perché la pala canestro per lui è la prima cosa e che quindi cioè c'era proprio un limite mentale un problema mentale che lui ha accusato e ora magari io ho letto sta roba poi ho visto la sua partita di esordio e mi sono fatto influenzare però mi sembrava meno gioviale meno felice meno contento meno Embiid Zuzzerellone no? accattivone questo comunque è una cosa che va calcolata e calcolando questo che può essere un limite alle prestazioni le sue tre prestazioni da rientro sono state tutte e tre oggettivamente importanti perché la prima l'ha decisa lui era quella dove era un attimino più arrugginito e i Philadelphia si sono completamente ripresi a testimonianza di quello che dicevi De e che sappiamo cioè Philadelphia con Embiid è una squadra senza Embiid è una squadra di merda a prescindere dal se in forma maxi dal se in forma ubre cioè Embiid cambia tutto fa il giorno e la notte però trovalo al primo turno Embiid cioè io non lo vorrei trovare mai neanche se fossi Mazzulla e la Mazzulla Offense Mazzulla la Mazzulla Offense e la Mazzulla Defense la Mazzulla Defense no ma è è impressionante cioè in questo momento noi abbiamo Miami e Philadelphia che sono potenzialmente potrebbero essere settima ottava cioè Boston e Milwaukee arrivando prima e seconda potrebbero trovarsi Miami e Philadelphia al primo turno invece di trovarsi tipo che ne so Indiana Orlando che sta venendolo di tacco capito cioè allucinante allucinante e questa notte c'è intanto c'è Milwaukee New York NYX voi saprete già com'è andata noi non lo sappiamo come detto ci sarà due volte Milwaukee Orlando quindi nulla vieta veramente a questo punto di pensare che i NYX è rientrato a Nunobi Randall sarà out for season e non è detto che sia una brutta news nel senso che per come ha giocato i playoff nelle ultime stagioni alla fine potrebbe anche non essere male però cioè noi in questo momento abbiamo potenzialmente dei NYX in corsa per il secondo posto e degli Orlando Magic che potrebbero benissimo salire cioè Milwaukee ha veramente fatto una stagione incomprensibile incomprensibile non so neanche cosa dire perché cioè effettivamente è abbastanza inspiegabile cioè c'è qualcosa che non funziona lì dentro dentro lo spogliatoio e a questo punto siccome non puoi sputtanare tutto non puoi sputtanare Yannis Lillard dopo una stagione e a questo punto secondo me Middleton potrebbero anche pensare di farlo fuori di farlo secco perché non lo so lo potevano far secco prima però perché non è che dopo questa stagione qui il mercato di Middleton è andato increscendo come valore sta andando calando perché oggettivamente sta in campo poco e non benissimo a livello di continuità ragazzi io non lo so comunque la più grande cazzata sul dato di fatto numeri alla mano ma non per volergli male è aver preso il consulente piuttosto che Griffin numeri alla mano perché Griffin è stato esonerato con un record della madonna il consulente in questo istante dovrebbe essere 15-16 perse se non vado errato sto andando a memoria allucinante e poi va da sé che se hai avuto hai sentito la necessità di dover sacrificare un allenatore che ti stava portando la squadra a un record vincente e tutto sommato si stava gestendo la stagione quasi in testa a testa con Boston fino a lì allora vuol dire che c'è veramente qualcosa di profondo dietro per cui l'allenatore è stato mosso come si deduceva ai tempi per volontà di certi giocatori certi altri con certi alcuni non funzionano magari ci sono gerossie presse di culo all'interno dello spogliatoio però il consulente prima ancora che il consulente sarebbe stato anche il motivatore sarebbe stato anche il creatore di amalgama perché è noto per questo in NBA grande costruttore di gruppi vincenti una volta sola ma questo lasciamo il verde però invece non sta funzionando nemmeno in quello Rivers di fatto viene lì per fare in modo che funzioni il gruppo attorno a quelle due star e dato di fatto lo va a deteriorare perché non solo non giocano quasi mai insieme né quando sono in campo né quando sono reciprocamente infortunati in alternanza tra l'altro può lasciare anche qualche dubbio ma in più il resto del gruppo comunque fa cagare cioè io non so che dire onestamente dico solo una roba ultima non voglio direvi nient'altro Gallinari scelta di fatto perché si diceva ma è Gallo no perché Gallo vuole andare a vincere il titolo è andato ai miei vuoi piuttosto ai Clippers è la situazione più nitida oh come è arrivato Gallinari lì non ha messo i piedi in campo povero Danilo ci mancherebbe però questi hanno cominciato a perdere la ruota una dietro dell'altra quindi di sicuro o porta male o ha scelto male perché è pazzesco non è proprio una situazione migliore per Gallina magari si riprende magari sarà decisivo playoff che bella storia se vincessero il titolo eh sì se viene male il consulente sai mai no ma tra l'altro tra l'altro allora io sono andato un po' indietro a livello storico cioè un parallelismo a livello proprio di record di quello che è successo durante la stagione tutto si può avere con i Rockets del secondo titolo no i Rockets del secondo titolo sacrificarono T-Storp per prendere Clyde Drexler all'interno di una stagione in cui erano sesti quinti sesti settimi a a ovest non cambia un cazzo anzi il record con Drexler fu 50 e 50 più o meno quindi attorno al 50% partirono da sesti e vinsero il titolo perché poi ai playoff la qualità era tanta c'erano Akeem Drexler Orri Kenny Smith tanti altri Mario Eli ma si sbloccò qualcosa ai playoff ora l'unico modo che vedo io al momento perché i Milwaukee Bucks possano arrivare fino in fondo è che nei playoff scatti qualcosa non so cosa cioè non so cosa in realtà so cosa nel senso difensivamente per carità di Dio ma la palla c'è la Lillard Yannis fa il bloccante cioè non credo ci voglia tantissimo per capire che così possono funzionare e invece boh non va credo e voglio sperare che il consulente si stia sgolando nel provare a spiegarlo in tutti i modi possibili sta roba qua evidentemente anche se lui è un grande motivatore se è un players coach ma non riesce a penetrare la scorza di Adedocumpo perché magari ci sbagliamo noi ma sembra lui il problema di questo fit però il parallelismo con i Rockets è molto interessante c'ha delle grandi analogie banalmente il fatto che Olajuan volesse una star a suo fianco e quindi si sacrificò il preziosissimo Thorpe per portare però quello che era il suo amico al college che entrambi avevano fatto Houston erano stati parte integrante dei famosi Fisla Majama che poi non vinsero ma insomma a livello NCAA detto lo spettacolo e chiaramente dopo aver vissuto un decennio abbondante entrambi di carriere parallele in due squadre diverse quel fit da giovanissimi era perfetto esplose però a ritardo cioè quando contava in post season quando nessuno più ci scommetteva una lira qui il problema però è che è vero Giannis voleva una star ne hanno dato Lillard sacrificando Holiday e dopo aver fatto un mercato precedente dove il backcourt difensivo era completamente perduto ripeto Javon Carter sarebbe servito quest'anno qua ma anche Wesley Matthews che non so che cazzo di finale è Atlanta è Atlanta sono andati via prima però vabbè però Lillard e Giannis non hanno uno storico di amicizia come c'era tra Kim e Drexler e di fit costruito negli anni della gioventù quindi della formazione tecnica quindi la mia paura è che se non c'è stato verso di farli funzionare in 82 partite con due allenatori uno dei quali è tra i top 10 all time secondo la NBA che è consulente è quindicesimo però sono sempre tanti d'accordo? e se non c'è stato tempo fino ad ora è un po' di dubbi e poi arrivi il miracolo e funzioni e poi anche se arrivasse c'è sempre Bisley che è un problema difensivo accanto a Lillard c'è sempre Middleton che l'abbiamo già detto c'è un Brook che dopo che ha rinnovato questo contratto è come se metaforicamente avrebbe fatto il gesto dell'ombrello nel senso è palese in questo momento non è più il giocatore che l'anno scorso miracolosamente era apparso è cala anche lui anzi è anche troppo longevo per quello che gli si è chiesto e gli si chiede boh ragazzi io la vedo molto cioè io se mi posso permettere di fare un pronostico mi ricordo che il titolo non lo vince mai secondo me ora questo clippatelo perché sarà poi che cosa andrà messa in loop quando vincitano però per me c'è 800.000 ingredienti tra cui Gallinari che porta male che secondo me determinano il fatto che Milwaukee non può vincere il titolo quest'anno e se non vince il titolo quest'anno è un fallimento per buona pace di Adedocumpo e se è un fallimento per buona pace Adedocumpo lo deve tornare ai microfoni e dire l'anno scorso ti ho preso per il culo quest'anno ammetto che è un fallimento lo deve dire e dopo che l'ha detto chiede la cessione quindi questi sono gli scenari secondo me probabili che vedremo nei prossimi mesi non bellissimi per i tifosi Bax mi dispiace però è così tra l'altro tra l'altro ti dirò di più ti dirò di più che in questo momento Cleveland sta vincendo di 20 coi Clippers a Los Angeles e andrebbe a 47 vittorie lo stesso numero dei Milwaukee Bucks che giocano questa notte con i Knicks perdendo i Knicks andrebbero a 46 vittorie i Magic vincendo andrebbero a 46 vittorie e a quel punto potrebbe anche prospettarsi un quinto posto per i Milwaukee Bucks che avrebbe dell'incredibile in ogni caso in ogni caso sarebbe cioè best case scenario o worst case scenario dipende dai punti di vista nel senso Celtics Philadelphia al primo turno Miami Milwaukee con Lillard che viene buttato fuori dai Miami Heat dopo che per mesi doveva andare lì sarebbe proprio la morte sua la morte sua che lo scorso anno hanno eliminato i Bucks esatto il che vorrebbe dire che due squadre tra Orlando Knicks Cleveland e Pacers sarebbero già matematicamente al secondo turno cioè avrebbe dell'assurdo sta roba qua vuol dire che una di queste quattro è potenzialmente potrebbe arrivare alle finali più che te parli racconti questo poi abbiamo parlato prima dell'Ovest e mi domando mi viene naturale ma quelli che dicono che la regular season NBA fa cagare perché non c'è niente di interessante le partite sono brutte non ci sono temi non c'è incertezza e qui a inizio stagione andiamo a vedere i power ranking cioè noi davamo per scontato ad esempio che i miei vuoi dominassi a regular season davamo per scontato non lo so che Phoenix dominassi a regular season e invece porca caccia miseria qui si stiamo vedendo di tutto di più e c'è il rischio di vedere ancora di più se questa settimana va in un modo imprevisto ma che neanche poi così assurdo se guardiamo ai trend recenti quindi ragazzi a me va bene tutto i detrattori voglio ritornarci amichevolmente perché poi gli voglio bene l'inseason tournament fa cagare e non si difende e la regular season è pallosa però ragazzi qui non solo si prospetta dei playoff incertissimi ma sono diretta conseguenza di una regular season che è vero vai a vedere la partita di Detroit contro non ricordo chi è Malachi Flynn fa 50 punti se mi puoi dire però la qualità no vai a vedere che ne so Charlotte Portland e dici che schifo grazie ma questo è sempre successo perché sono squadre che hanno smesso di giocare un mese fa perché erano fuori da qualsiasi tipo di competizione e stanno facendo giocare le terze linee vedi Malachi Flynn però insomma la grandissima parte delle partite che sono al programma hanno un super interesse e cinque anni fa l'ultima settimana di regular season camminavano tutte era una parte perché non c'era il team e perché non c'era tutto questo talento diffuso per cui effettivamente pensa comunque torniamo ai Lakers nelle ultime dieci partite ne hanno vinte nove ma dal 7 di gennaio oggi lo leggio prima hanno un record tipo di 28-7 secondi per record e sono sempre rimasti noni loro da due mesi vincono e basta sostanzialmente e sono rimasti sempre lì questo significa la qualità che c'è tra le altre squadre ovest è altissima perché nessuno ha perso posizioni se non nelle ultime ore che sono saliti all'ottava cioè è assurdo e non si può dire che questo non è divertente o interessante se uno non gli piace il basket o non gli piace una certa storyline che tra l'altro è così incerta allora è un altro discorso però caspita meglio di così per adesso questa stagione non poteva andare con tanto dell'insiso intorno mentre di quel che volete l'unica nota stonata l'abbiamo già detto mille volte è l'all-star game però per ora è devastante devastante eh sì sperando che Kawhi rientri perché almeno voglio dire sarebbe veramente una run playoff in cui ci sono Kawhi e Towns ecco a Ovest mancano se rientrassero loro saremmo veramente al completo e Adam Silver penso possa veramente stropicciarsi gli occhi e lanciare alle televisioni questa roba qua perché sarebbe poi bellissimo perché nell'anno in cui di fatto hai vietato il load management tutte le star sono sane ai playoff pazzesco anche questo sarebbe incredibile pazzesco gli va bene tutto a quell'Adamo maledetto là quello non lo so come fa se è un mago ora riesce a far tornare tutto ma è ma sulle male a tutti però lui riesce a far tornare tutto ma su eh sì Mastrolindo che spettacolo che spettacolo guarda che i Clippers rientrano intanto incredibile ragazzi sto vedendo Dallas c'è Doncic che sta cucinando sì sì e io le sto vedendo entrambe quindi e quindi va bene allora i matinetti i Clippers sono un po' un classico in questa stagione rientrano dopo e poi alla fine la finiscano punto a punto e rimanendo a Est così chiudiamo questa puntata quali sono le squadre che ci arrivano un po' più lanciate sicuro non mi luochi sicuro non mi luochi a Est in questo momento non c'è nessuna squadra che sta arrivando in pompa magna direi eccezione fatta per i Celtics ma i Celtics fanno una gara a parte forse ti dirò forse Philadelphia visto che è rientrato Embiid stanotte non giocherà Embiid perché giustamente back to back non è che vai a rischiarlo gioca contro San Antonio Philadelphia questa notte e San Antonio che ha fatto lo sgambetto ai Pelicans un paio di giorni fa quindi insomma Embiid la ultima volta ha incontrato San Antonio ha fatto 70 punti esatto stanotte non giocherà Embiid e e neanche l'Auri e sono in dubbio anche Maxi ed Harris ora magari sono uscite l'ufficialità ma non ho visto niente quindi Philadelphia potrebbe anche dire ok me la rischio contro San Antonio però sì con la squadra al completo ti direi Philadelphia a Est potrebbe arrivare con un certo spirito diverso diciamo e magari perché no proprio gli Orlando Magic ma Franz io guardo sai io sono un grande simpatizzante degli Orlando Magic quel che ti pare ma sono inguardabili in attacco eh caspita io non riesco a pensarli ai playoff anche i mix però ma però Orlando è peggio dai caspita cioè io sai che sono un fan assoluto dei Magic di Banchero l'altra notte di Banchero ho visto il tabellino 32 punti sì però tira sempre col 35-40% dal campo cioè e lui secondo me è l'emblema di una squadra che attacco che è statico non funziona non hanno volumi dall'arco cioè è completamente l'opposto di quel che ti serve in postseason per poter sperare di fare un upset però è una squadra di grinta difensiva dipende da chi incrociano secondo me contro i Celtics ad esempio escono 4-0 con dei differenziali dai 20 ai 40 punti a partita secondo me però sai come Milwaukee non lo sai mai adesso vediamo queste due gare finali perché Milwaukee è in discesa libera però metti un primo turno Orlando-Indiana eh Orlando-Indiana è una roba che ci può far divertire non avresti mai previsto a inizio anno mai previsto no perché pensavi fossero le due squadre che uscivano dal plane almeno io mi facevo come miglior scenario e Indiana è un'altra squadra che comunque dipende tanto da Ali Burton che è assurdo io riguardavo i suoi split mensili cioè c'è stato un Ali Burton pre-infortunio e post-infortunio sono due giocatori diametralmente opposti vedevo i paragoni tra lo split di dicembre che è stato il miglior mese di Ali Burton e quello di marzo ma ha tirato col 20% da 3 punti a marzo percentuali ha diminuito quasi di 4 assist di media cioè è veramente un altro giocatore ora magari riescono a recuperarlo le prime gare del mese le prime due e Ali Burton ha presentato un rendimento simile al suo momento migliore dicembre-novembre però tanto dipende da lui per le eventuali sorprese di Indiana fatto salvo che secondo me Indiana è una squadra che non si deve neanche muovere più di tanto cioè resettiamo l'anno prossimo e ripartiamo con il Siakam acquisito con un focus un attimino più orientato anche verso la difesa perché è chiaro che in questo momento i giochi secondo me per Carlyle sono un po' andati un po' a caso nel senso nel momento in cui Ali Burton non è lui questa non è la squadra che rende come potrebbe però è una squadra con tanti giovani tanti asset per me è una squadra che è la squadra potenzialmente del futuro est per talenti e l'aggregazione di Siakam la vedi tanto l'anno prossimo insieme a Orlando insieme a Orlando che a livello di età a quanto meno è lì trovare un po' di risolvere un po' di problemi al tiro Orlando trovare qualche tiratore una point guard tiratrice perché oggettivamente nel 2024 avere una squadra dove oh Cessax tira quasi col 40% ci mancherebbe credo sia il miglior tiratore all'arco di squadra e sta facendo una stagione della Madonna l'abbiamo già detto defensive all defensive potenziale però nel senso si vede che non è un tiratore vero puro Jalen Saks è un tiratore da striscia c'ha la serata con la mano la serata no però Orlando gli serve un attimo più volume dall'arco perché è veramente una squadra che puoi battezzare in una serie playoff dal primo all'ultimo minuto e vince la partita cioè banchero in primis quindi dovremmo lavorare tanto invece che muoversi bene però partono da una buona base partono da un'ottima base e con questo abbiamo terminato quindi insomma abbiamo parlato a 360 gradi di Ovest e Est una settimana dalla fine della regular season domenica prossima vi faremo sapere se saremo live per l'ultima giornata di regular season a seguire tutte le partite poi registrando anche la puntata io mi devo un po' organizzare internamente sto guardando alle mie spalle per chi è su youtube per ammiccare alla possibilità che ci si presenta davanti magari facciamo dalle 21 e 30 fare tutto dalle 19 penso sia impossibile io non lo escludo non lo escludo basta organizzarsi un pochettino capire un po' come vanno le cose sarebbe bello però sarebbe bello per chiudere la regular season anche a livello podcast travestiti non saremo noi però vediamo vediamo detto questo facciamo una maratona tipo Natale sostanzialmente di otto ore esatto saremmo degli eroi beh vabbè insomma l'abbiamo già fatto alla fine ci si diverte l'abbiamo già fatto ugualmente a gratis perché non rifarlo tanto per la gloria qual è il problema vabbè insomma ci sono i playoff comunque Clippers a meno 12 sono rientrati comunque ora non abbiamo parlato e non ne parleremo però stanotte c'è anche il grande finale abbastanza telefonata per College Basket dove c'è la grande sfida tra il nostro Zacchetti ma soprattutto il nostro potenziare Klingan come si chiama lui lungo che potrebbe essere naturalizzato italiano noi l'altra volta pensavamo parlavamo ipotizzavamo di chi portare dentro questo è lungo che dire a tre punti 2-18 probabilmente sarà anche ben scelto l'anno prossimo perché c'ha le votazioni in salitissima c'è in ascesissima con la per via del torneo che sta facendo da quel che leggevo magari riusciamo a prendere lui pare che sia Foix il che ha lavorato nel College Basket l'aggancio e che abbia lui proposto di lavorare su Klingan sarebbe posso dire sarebbe un colpaccio tra l'altro ragazzi non so se hai sentito ha fatto incidente Petrucci oggi riprenditi sta bene ha detto sta bene ha detto grazie al signore poteva andare peggio noi non è che proprio ti amiamo più di tanto però non ti abbiamo mai augurato questa roba qua c'è un limite a tutto esatto riprenditi in fretta caro Petrucci e dovessimo veramente virare su Klingan sarebbe adesso è tutto da vedere nel senso abbiamo visto un College Basket è un'altra roba però alto è alto futuribile futuribile anche a livello d'età anagrafica per me sarebbe buono soprattutto se l'alternativa è l'italianissimo Drew che con buona pace di tutti si bene ma lasciamolo lì lasciamolo ma noi ora io lo faccio per scherzo lo dico a tutti sto perdendo una roba a scherzo una persona intelligente abbiamo nello staff federazione coaching è Voice l'unico d'accordo ecco e lì vediamo quelli che sono i valori e i pesi se naturalizziamo Clingham vuol dire che ha vinto il merito il merito dell'intelletto se portiamo Eubanks vuol dire che Petrucci non si è fatto così male o comunque insomma dietro a lui evidentemente c'è la spinta dell'incompetenza e quindi in quel modo lì ci possiamo segnare perché la campana suona a morto l'esperienza banchero ci dovrebbe insegnare lì è stata la sfiga del covid e tutto ma talenti che vengono dal college come Clingham vanno presi subito perché se questo fu da caso per una ragione o per un'altra diventa la quinta la sesta o la decima scelta e l'anno prossimo gioca a livello ad esempio di Lively come Tim Minuti quest'anno a Dallas te lo sei preso nel culo non ci viene mai più a giocare con l'Italia quindi va preso subito secondo me poi se è lì che sta rompendo i coglioni a tutti speriamo ascoltate ascoltate Petrucci dal letto d'ospedale spero tu sia a casa in ripresa ascoltalo ascolta Rick prendiamo Clingham non Drew non Drew comunque nel frattempo nel frattempo ragazzi due partite punto a punto perché i Clippers sono rientrati dal meno 25 al meno 5 con la tripla di Paul George dall'altra parte siamo a 1 minuto e 20 dalla fine con Houston avanti di 2 e con questo brutta regolar season NBA esatto esatto e con questo senza vedere i finali live e commentarli non dico live perché non siamo live ma commentarli all'interno del podcast vi lasciamo non sapremo non vediamo i risultati in diretta Tore puntata 48 in cascina la settimana prossima sarà la 49 e la 50 sarà la prima in post season ci siamo arrivati anche quest'anno che roba senza saltare neanche una settimana aspetta dirlo ce ne manca una ce ne manca una per la regolazione ma che l'ultima settimana è stata difficile per tutti quindi occhio ragazzi è dura è dura ma noi ma noi resisteremo soprattutto ora cambiando poi le apparenze insomma le identità vedrete troveremo la funzione esatto comunque ragazzi io l'unione se posso dirvi è buon lunedì di merda perché lo sarà indubbiamente come al solito come al solito e che la settimana merdosa che vi aspetta sia meno amara grazie allo spettacolo del finale di regular season NBA perché questo è in vista dei playoff un antipasto bellissimo quindi alle raga e ci risentiamo alle signori grazie mille buon lunedì a tutti ciao